Roby, faccio un saluto dalla squadra. Eh? Sì. Non so se lo puoi fare, sai? Non mi riprende un po' di colcolare. Non c'è una bella canzone. Non so. No. Ma io... Ma io... Lo faccio con lo sfondo. Ma non vedo già, ma dove sta? Eh? No. Vediamo un po' perché. Sì. Quale compagnia era? Sì. 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 I vattini. Sì. Sì. Non lo sa neanche lui, penso. Sì. 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 Come sta a fare questa? Perché non c'è la chiusura, secondo me. Guarda. Sì. Guarda. Sì. 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 Vabbè c'è lui il bagaglio a mano Sì, è inutile fare un macello A me l'ha sbiato Massi dicendo Che fai? Mi fa vedere questo biglietto che lo riprendo? Buongiorno Questa parte è più rinno Allora, a Palermo Vediamo un po' No 11 10 Il banco 150 dall'altra parte Non sono preaccettati Però se vuoi Andiamo al banco E' un po' Il banco è tutto Ma è in quadra Ehm? Non è in quadra Ehm? Che c'è per 50? Eh, di euro Non c'è il biglietto? E' un biglietto? Biglietto? Biglietto invece di uno Biglietto invece di uno Biglietto invece di uno Biglietto invece di uno Giammaria? No Io la mamma di padre Sì, ma la bionda com'è, è meglio, è vicino. Spettacolo! Guarda che bionda... Ma ha fatto Tana che la sta riprendendo? No, no, non so se è pagato. Mi devo fare una panoramica pure sulle gambe e tutto quanto, Gianluca? Eh sì, caderebbe le gambettine, sì.